Ricordo di una persona che ha fatto la storia politica del nostro territorio, della città dell'Aquila. Uomo di Stato, uomo di governo, senatore per cinque legislature. La partecipazione di oggi è una giornata lavorativa in occasione proprio della sua ricorrenza, il giorno della nascita, lui è nato il 19 di ottobre del 21, è la testimonianza dell'affetto e della vicinanza che legano le persone alla figura del senatore a Cire. Una persona che aveva una possibilità di entrare nel cuore degli altri, aveva la capacità di stare in mezzo alle persone, la voglia di fare e il suo obiettivo prioritario era quello di migliorare le condizioni di vita delle persone che rappresentava. Un'ambizione importante, oggi l'abbiamo celebrata con la presenza dei figli, lo abbiamo fatto in maniera adeguata, lo abbiamo fatto col cuore e credo che sia il coinvolgimento del Consiglio regionale, di tutte le persone che ci hanno aiutato a raggiungere questo obiettivo, sia il giusto coronamento e riconoscimento a quello che la figura del senatore a Cire di Meritale.